Ciao, sono Sergio Grazzini. Durante la mia attività artistica musicale ho avuto modo di suonare sia con l'arco alla francese che con l'arco alla tedesca. Questo richiede un notevole studio tra la differenza di impostazione della mano e una diversa concezione dell'uso dell'arco sul contrabbasso. Il video che segue propone le due diverse tecniche. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.